Sì, è accesissima, la sfida è accesissima, quindi carissimi appassionati ci sentiamo tra poco per il proseguo dell'azione qui a pista, la seconda maestria gara entrerà in pista tra pochissimo, grazie per averci seguito e a tra poco. Allora, tra pochissimo per il master kit, ma mi facciamo pure attrezzare il prossaggio. Allora, tra pochissimo per il nostro corso. 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 Tra pochissimo per il nostro corso.